vi ricordo l'appuntamento con civita tutti lunedì alle 21 su tele regione live per parlare di politica di opportunità di territorio sentiremo i sindaci sentiremo gli amministratori locali sentiremo le voci del territorio dall'economia alla società sentiremo tutti per farci un'idea e per cercare di capire la realtà che ci circonda sempre con un occhio a tutto il territorio regionale seguiteci su tele regione live ogni lunedì civita alle 21 a presto